Un panino nell'atmosfera terrestre proprio così e sarà il protagonista assoluto di una missione spaziale senza precedenti. Il 21 giugno infatti il celebre pollo fritto della catena statunitense Kentucky Fried Chicken compirà un viaggio nella stratosfera. La partenza sarà a Tucson in Arizona e il sandwich resterà in orbita per quattro giorni ad un'altitudine tra i 90 e i 130 chilometri dalla superficie terrestre. Ma quali sono i motivi di questa stramba trovata? Sicuramente di natura commerciale. La partenza della statura di senzlo è stato in un risotto aereo e reale attraverso attraverso l'autostale stratolyte. Imagine all the things you can do by hovering over an area that just experienced a natural disaster. It's things like that that we're really excited about being able to do with our stratolyte systems. It's actually, in some ways, it's sort of funny, we're flying a chicken sandwich, but on the other hand, it's one of the world's largest companies trusting the launch of a new product to our flight, to our maiden voyage flight. I mean, that's a big deal.